Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video voglio spiegare le funzionalità di Audacity. Audacity è un programma che permette di realizzare file audio, wave, mp3 e quant'altro con il pc e un microfono oppure semplicemente con il microfono della macchina stessa. Una volta avviato il programma si presenta così, gli si dice non mostrare più questo saluto ed è proprio semplicissimo, basta cliccare il tasto rosso e lui registra, ma prima di farlo è sempre opportuno andare nella barra delle applicazioni e verificare i dispositivi di registrazione AAA, come vedete funzionano, ho una cuffia con un cavo usb e dispositivo di ascolto, più importante è quello di registrazione, se si vede il cursore funzionare è sicuro che registra, ma però è anche semplice perché una volta avviato il programma basta cliccare il tasto rosso registra, questa è come la tastiera di un vecchio registratore e si vede subito se il programma sta registrando, 1, 2, 3, prova, registro, un piccolo pezzo clip, ecco quindi si vede che ha registrato, si vede anche la grafica, si può registrare 5 minuti, 10 minuti, un'ora, quanto si vuole, io spiegherò solo come si fa un video, un audio, ma è possibile compattare gli audio, tagliarli, aggiungere pezzi, registrare lezioni scolastiche e poi compattarle tutte quante o togliere ciò che non serve, è come un editor testuale, se il editor audio, una volta chiusa la registrazione con il quadratino si riascolta, ecco se il programma sta registrando, allora una volta registrato lo devo salvare, vado in file e clicco esporta audio, allora se esporto un file wave non c'è nessuna difficoltà lo chiamerò prova, e lui lo fa, perché ha tutte le competenze e il codec per farlo, dove è prova? eccolo lì, come vedete ho fatto il file prova, doppio clic su file prova e lo ascolto, se invece voglio un mp3, devo installare delle altre, dei codec che si chiamano lame, e adesso vi farò vedere come si fa, è banalissimo, basta che io dica esporta audio, qui invece che selezionare wave, seleziono mp3, eccolo qua, e lo chiamo prova mp3, prova trattino, salva, il computer dirà che non ha le librerie encoder lame, quindi non gli devo dire altro che scarica, e il computer se connesso a internet andrà alla pagina relativa allo scaricamento di queste funzioni che permetteranno da oggi in poi a questo computer di realizzare appunto delle file mp3 la pagina è già in mostra, basta cliccare lame, lame download page, si apre la pagina dedicata a questo download eccolo qui, lame 3.99.3 per windows, .exe perché è un esecutivo quindi due passaggi, clic, queste si installano, salva file, e una volta installate il nostro pc potrà avere sempre la possibilità di fare gli mp3, eccole qui, apro la cartella, eccole qui, doppio clic, queste si installano sono un file piccolissimo, diciamo di sì, ecco, avanti, avanti, installa si fa una volta sola, e adesso, io se voglio salvare questo file, vedete che adesso me lo fa fare riprovo l'operazione, file, esporta audio, mp3 e lo chiamerò, prova, mp3, salva adesso lo faccio, mi chiede i metadati, chi sono, cosa serve, quant'altro, ok se noi andiamo sul desktop, potremmo trovare, eccolo qui, prova mp3 giusto per sapere, prova è un file un mega e quasi e mezzo prova mp3, date un'occhiata 133k, quindi si capisce perché conviene fare mp3, il peso fa la differenza la qualità non si nota per un file audio quindi per Audacity, tutto qua, se si vogliono fare file WAVE, il programma è già operativo, se si vogliono fare mp3 bisogna scaricare risorse lame buona sperimentazione a Francesco Fusillo per le guide di Audacity a Francesco Fusillo a Francesco Fusillo